Entrano in campo i nostri ragazzi, Milan-Lazio, inizia la volata delle ultime cinque giornate di campionato, testa e cuore solo su questa partita, troppo importante per noi. Benna sarà recuperato palla, ecco Rafa che se ne va, Rafa lanciato da Giroud, Rafa, Rafa, Rafa contro Casale, Rafa, 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 e sono andati a provvedere la parata del portiere della Lazio. Rafa ha male, Rafa ha male, dopo lo scatto di poco fa, qui si è allungato la palla e su questo movimento ha sentito qualcosa, sale Neckers al posto di Leao. Messias viene in mezzo al campo, bella azione di Junior, bella azione di Junior che la porta a sinistra per Teo, si è allargato Alexi, Alexi riceve, Lobrek Kamarusic, Alexi sul corto per Teo. Deo va al cross, Giroud alto. Bella conclusione di Giroud. Benna ser pressa, Giroud, Benna ser, gol, gol Isma, Isma gol, Isma gol, Isma gol. Assis di Giroud, recupero palla, protestano con Rappuano quelli della Lazio. Vediamo. Qui Marcos Antonio, ma a me sembra che sia tutto regolare, a me sembra francamente tutto regolare. Tu a Mike, infatti così è, scatta Teo. Ecco la, ecco la sarabanda del Teo, 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 se n'è andato Teo, se n'è andato Teo. Il tiro, gol, una meraviglia totale, Teo Hernandez. Lo spettacolo più bello dopo il Big Bang, lo spettacolo più bello dopo il Big Bang, Eteo, e Hernandez. Cross, colpo di testa, Messias fuori. È stato giusto provare a prendere al volo, va bene Junior, va bene Junior, va bene Junior. Eccoli Benassere Tonali, Isma lascia, parte Sandro, cross, bello, palombella, alto, alto Malik Chao, alto, alto, grande occasione Mila. È finita ragazzi, andiamo che vinciamo. Ed è 2-0 per noi, strameritato. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti.